Parli turco? Metti due dita bagnate nella presa di corrente. E cosa c'entra? Ti ho chiesto se parli turco. Vai tranquillo, due parole in turco ti escono. E cosa sai di albanese? Che è siciliano, che ha fatto mai dire go-out. Facetto la qualunque. Ciao, ciao, miau. Bravo. Però, giovanotto, oggigiorno diciamo che almeno l'inglese bisogna masticarlo. Infatti non esco mai senza i miei cheving. Oggigiorno diciamo.